buongiorno a tutti sono Federica Bonaldi a nome di KN Italy e Forum Retail sono lieta di dare il benvenuto a Lorenzo Bergani Industry Direction e Retail di TechEd. Buongiorno a tutti grazie per l'invito eh mi fa molto piacere partecipare a questa intervista. Bene Lorenzo partiamo subito con la prima domanda e quindi ti chiederei quali sono stati gli impatti della pandemia sulle esigenze dei consumatori? Sicuramente eh abbiamo vissuto un lungo periodo di lockdown questo ha portato a situazioni diffuse di smart working alla chiusura prolungata dei negozi fisici soprattutto chiaramente nel mondo fashion e questo ha generato un cambiamento eccezionale mai visto prima spostando radicalmente la relazione del cliente verso eh i prodotti verso i brand eh dal fisico all'e-commerce. Su tutti diciamo i canali quindi non solo il B2C ma eh fondamentale è stata anche eh il doversi adeguare sul canale B2B e abbiamo visto il fiorire di eh del canale D2C direct to consumer da chi normalmente si dedicava al mondo della produzione verso il canale business diretto sul canale commerce eh quindi il canale dei consumatori finali. Ed ora dopo aver sperimentato forzatamente l'online quali sono i requisiti necessari per le aziende che vogliono incontrare i propri clienti in ogni canale? Io credo che eh la prima cosa importante che tutti hanno dovuto affrontare è cercare di spostare l'esperienza tipica eh empatica e professionale che si può instaurare in un punto di vendita fisico tra l'addetto vendita, l'assistente alla vendita e il cliente sulla eh canale digitale. Questa è stata la prima sfida. Questo significa non soltanto presentare un articolo, poterlo mettere nel carrello, ma poterlo, poter raccontare la sua storia, dare una una sorta di di anima, creare la relazione con con questo articolo, con questo prodotto. Fondamentale è riuscire a trasmettere l'importanza degli abbinamenti di un prodotto rispetto ad altri, magari con eh forme di eh consigli personalizzati. fondamentale poi è stato a dover abbattere ogni vincolo logistico soprattutto oggi che siamo tornati alla riapertura del punto vendita fisico eh a fronte di un mantenimento dello spazio conquistato sul sul virtuale. La cosa credo più importante di tutti poi sia riuscire a creare e a mantenere la coerenza nei nei modi in cui si comunicano identità, prezzi, informazioni su tutti questi canali. Quindi la brand identity deve essere assolutamente mantenuta e valorizzata. E poi ovviamente essere presente su tutti i canali e in modo integrato. Questo è fondamentale. Quindi il fisico e il commerce ma anche i social, tutti i cataloghi digitali a cui si può accedere attraverso le app o la relazione fra il l'importanza ancora di quelli che sono cataloghi cartacei, quindi fisici e il loro reciproco digitale e infine chiaramente anche la presenza sui media e sempre con il reciproco digitale mantenendo sempre il rapporto con il reciproco digitale. Dal punto di vista tech edge quali sono i fattori chiave di successo, processi e soluzioni da adottare per i retailer oggi e nel futuro prossimo? Ma io credo che la parola chiave, la parola più importante, il tema più importante sia l'omnicanalità. L'omnicanalità intesa come presenza del brand, del cliente e la possibilità del cliente di accedere ovunque in modo coerente. Ogni proposta su ogni canale deve essere interdipendente e interconnessa con call to action alle varie altre situazioni che il brand può proporre e chiaramente una logistica innovativa che serva a questa omnicanalità nel modo più efficiente possibile per l'efficacia del cliente. Questo significa per chi fa il nostro lavoro fornire le soluzioni che sostanziano la proposta della customer experience però in modo integrato e orchestrato. Questo è fondamentale. Quindi non basta essere società che possono fornire soluzioni di product information management, di digital asset management, di gestione di cataloghi centralizzati ma tutto questo deve essere fatto in modo orchestrato. Questo è fondamentale e integrato con il resto della mappa applicativa dei nostri clienti. Chiaramente a cominciare dall'IRP o dai sistemi di produzione o dal PLM eccetera. Grazie ancora Lorenzo, colgo l'occasione per ricordarvi l'evento Forum Retail. Grazie a voi, davvero gentili, aspettiamo tutti al prossimo appuntamento.